e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi spero che l'audio vada meglio dell'ultima volta che dire ci miglioriamo ogni insomma facciamo tentativi noi siamo fatti così non siamo mai perfetti ma proviamo ad esserlo sempre di più anche l'inquadratura l'ho cambiata ma insomma registro dallo schermo dell'iphone quindi vedrete questo mirino sulla mia faccia come se qualcuno mi stesse puntando per avere tutti i miei flochi inu dal primo all'ultimo non li avrete mai non li avrete mai comunque volume basso no dai come volume basso non ditemi volume basso perché l'ho abbassato apposta per non spaccarvi timpani audio a bomba bene decidiamoci amici miei la fed ti ha preso di mira a proposito di fed sapete che tra poco parlerà vero spero di sì e che dire oggi è una giornata così come vedete dal grafico giornata all'insegna del rosso red friday qualcuno l'ha chiamato perché effettivamente ci siamo presi un ben un bel dump in testa ne parlavamo prima anche con gli altri amici con emiliano con marco di mind the chart con gli hard rock crypto abbiamo fatto un'improvvisata non so se siete passati sui loro canali abbiamo fatto un'improvvisata così una chiacchierata live sul più e il meno e con topic proprio cosa succede come ci dobbiamo comportare più tardi come sempre andremo a vedere meglio il grafico però io vi anticipo che la situazione ancora non mi spaventa ne avevamo parlato anche nelle scorse live negli scorsi giorni di come la situazione è ribassista solo su time frame di breve per il momento e quindi se non si sta a propagare su dei time frame un po più elevati come settimanale quant'altro non c'è nulla ancora da temere potrebbe essere un sano ritracciamento potrebbe addirittura essere un'occasione per andare a costruire una posizione su un medio periodo io vi ricordo come sempre che tutti quelli che diciamo non sono mai consigli finanziari né conigli finanziari comunque noi dicevamo che il l'invalidazione della della struttura rialzista perché guardate questa è la struttura rialzista in questione è un lower low di fatto se io vedo un lower low qui sotto inizio a preoccuparmi un po ma fino ad allora la struttura che attualmente è in piedi di higher high e higher low rimane assolutamente valida un primo indebolimento c'è stato perché non lo si può negare abbiamo visto come c'è stato questo falso higher high brutto quello devo ammetterlo quindi uno sweep dei massimi e poi liquidità in offerta che ha dominato con anche volumi tutto sommato rispettabili quindi offerta veramente cattiva ultimamente offerta cattiva che ci ha fatto perdere il nostro range se vi ricordate questa era la prima struttura in corso e quello che avevamo detto era se perdiamo questa struttura laterale passiamo a una struttura invece di ritracciamento sul breve ritracciamento sul breve che non vuol dire ripeto diventare bearish ma vuol dire che abbiamo perso il nostro supporto l'abbiamo anche ritestato dal basso possiamo dire e al momento sul breve ripeto sul su time frame di breve durata stiamo facendo dei lower high e dei lower low questo in contrapposizione di nuovo ve lo ricordo col trend più macroscopico quindi visto che l'impostazione generale è comunque rialzista sui time frame principali dominanti questo questa fase di ritracciamento potrebbe essere utilizzata per la costruzione di una posizione long su tutto il ritracciamento con stop loss sotto la come dire la il lower low l'invalidazione è quella quindi ci sbagliamo in che condizione cioè bullish fino a prova contraria qual è la prova contraria nel nostro caso la perdita dei 40 mila confermata ci aggiorneremo di volta in volta chiaramente a fine alla fine di questa live andremo a vedere come facciamo sempre il grafico in maniera un po più precisa delineando qualche scenario un po più concreto e andando a vedere chiaramente anche cosa combinano le altcoin adesso vi condivido qualche notizia interessante qualcosa che è successo in questi giorni e poi parola a voi come al solito non vi voglio vedere impanicati però guai a voi è il momento in cui chi ha una strategia riesce a uscirne a testa alta questo sono i momenti di panico generale dove chi non sa come comportarsi perché magari ha acquistato in pre dalla fomo magari ha acquistato qualche shit coin peggio ancora cosa fa dice cala tutto io vendo sono nel panico generale invece a una strategia dice la mia strategia io porto avanti anche perché sinceramente io da holder sul lungo termine sinceramente sono più contento se ritracciamo un attimino c'è più tempo per andare a portare avanti i nostri le nostre punto per attività di lungo termine ma non perdiamoci troppo adesso andiamo a vedere un paio di cose interessanti che sono successe e qualche aggiornamento dal mondo defy ed intorni a proposito di defy partiamo ma no facciamo così la defy teniamocela per dopo la mettiamo qua vicino a snowbank così è vicina a un fatto non bellissimo allora partiamo da polkadot kusama si è stata annunciata la vincitrice del dell'asta delle paracene dell'altra asta delle paracene che è moonbeam guardate tra l'altro pazzesco la quantità di fondi che hanno raccolto durante questa asta un miliardo e 280 milioni veramente impressionante moonbeam piattaforma di smart con tra che era un po scritto il fatto che che avrebbe vinto ne parlavo oggi con emiliano che lui è sul pezzissimo sul mondo polkadot e diceva che appunto era una delle più quotate adesso poi si va avanti con i prossimi slot come come sapete insomma la timeline ne avevamo parlato e vediamo chi sarà il prossimo però interessante moonbeam è uno dei progetti che avevamo anche inquadrato come quelli da tenere d'occhio ma anche parallel avevamo inquadrato quindi sono curioso di vedere come andrà il prossimo slot chi di voi è interessato a chi segue il mondo polkadot e che ha partecipato alle aste magari fatemelo sapere così come dire magari approfondiamo qualche topico ogni tanto salta fuori qualche interesse in più poi atom cosmos allora ho trovato questo articolo interessante perché parla di un una feature che potrebbe finalmente rendere utile atom cosa che ormai non lo so non sapevo più se aspirarci o meno ma insomma se mi seguite sapete che io sono molto bullish sull'ecosistema cosmos ma purtroppo un po meno su atom perché al momento attuale cioè ora come ora atom serve a poco perché la chain cosmos con il suo la sua coin atom è un po l'hub centrale del mondo cosmos poi ci sono tutte le altre varie blockchain ognuna delle quali ha la sua blockchain appunto quindi la sua coin i suoi validatori e gli staker devono quindi andare a validare con su quella chain e prendere il loro token mettere in stake il loro token e quindi perde un po di utilità atom no perché invece se prendete il mondo polkadot come esempio su polkadot abbiamo la relay chain centrale a cui si attaccano tutte le parachain e andando a mettere al sicuro diciamo la relay chain con dot mettendo i staking i dot si partecipa indirettamente anche alla sicurezza delle altre chain è un po più interconnesso c'è più utilità la inter chain security vuol fare esattamente questo su atom quindi prendere la chain cosmos quella lab centrale e utilizzarlo per mettere al sicuro le varie chain che ci si appoggiano in altre parole lato staking quindi lato utilità nostra mettendo in staking atom guardate bene si può in base al validatore che si sceglie andare a mettere al sicuro anche altre chain esempio qui si sceglie un validatore che mette al sicuro agoric sentinel e crypto.org e chiaramente la staking reward è anche su quelle chain perché indirettamente con gli atom messi in staking su quel validatore si partecipa alla sicurezza non solo della chain cosmos ma anche di quella chain attaccata questo potrebbe finalmente dare un'utilità ad atom quindi è un po il santo graal secondo me di del mondo cosmos e dare un senso al detenere atom che adesso personalmente ve l'ho detto n volte non trovo ancora per quanto il mondo cosmos sia interessante stanno arrivando un sacco di cose valide e vmos sta arrivando che è l'integrazione dell'ethereum virtual machine su cosmos quello che prima si chiamava ethermind se non ricordo male sta arrivando giuno che è una cosa simile con gli smart contract insomma è un ecosistema silente perché non fa tanto marketing ma fidatevi sviluppa fa tante cose e purtroppo atom è sempre stata lì un po per in prestito ecco e finalmente se ciò accade potrebbe cambiare un po le cose non ci sono timeline non ci sono date quindi non chiedetemi when inter chain security perché non vi so minimamente rispondere ma vale la pena seguire questa cosa tra l'altro non sono in molti a saperla quindi vi condivido questa piccola chicca sul mondo cosmos procediamo qualcuno prima ha parlato di sec la seccatura per eccellenza e il 2 di dicembre prossimo alle ore 10 e 45 la sec parlerà di crito quindi si salvi chi può no vediamo cosa diranno sono curioso di sentire poi cosa ne esce tra i vari topic vedete abbiamo chiaramente investor protection perché grazie sec che ci proteggi sempre ti prego toglici tutte quelle rendite del 10% sulle stable coin perché sono veramente un danno per noi investitori ti prego sec fallo e poi framework sui digital asset market structure c'è i rischi bla 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 e poi gli etf e le stable coin che sono un po' i punti scottanti di di questo periodo al proposito delle stable coin non so se avete letto la proposta che è stata fatta dall'europa proposta molto bella tra l'altro di regolamentazione del del settore cripto è stata redatta una una bibbia di 400 e passa pagine veramente una lettura da mettere sul comodino sotto l'ombrellone quest'estate dove viene proposta tutta una serie di inquadramenti giuridici fatti in maniera un po più precisa sulle cripto magari faremo un video dedicato perché ci sono alcune cose molto belle altre che mi piacciono un po meno ma vale la pena parlarne a parte perché non voglio buttarla lì in due parole e poi non non trattarla con l'approfondimento che merita comunque vediamo cosa ci combina sta sec se ci fa dampare di nuovo oppure no oppure dicono qualcosa di buono chi lo sa magari si pronunciano sugli etf spot tra l'altro c'è un errore di stumpa qui perché hanno scritto eft non so se è una fusione tra etf e nft ma insomma è così poi torniamo in italia invece il nostro exchange young platform il nostro exchange di bandiera di punta ha introdotto come metodo di deposito satis pay comodissimo io non so voi ma io satis pay lo utilizzo molto spesso nei ristoranti insomma in giro e adesso si può utilizzare anche per depositare in maniera istantanea su young platform come si fa semplicemente si fa deposita e come vedete c'è la voce deposito con satis pay super comodo e tra l'altro c'è anche una promo in questo periodo vedete tra il 22 novembre e il 31 marzo in realtà durerà un po' però proprio per celebrare diciamo questo lancio della possibilità di depositare direttamente su young platform con satis pay c'è la possibilità di ottenere un cash back del 20 per cento su un deposito con un massimo però di 20 euro se no è troppo bello con il codice che vedete qua sotto young platform 20 è una cosa assolutamente pubblica condivisibile quindi la trovate sul blog di young platform scusate ma mi sono mangiato qualcosa vabbè e quindi niente bella notizia perché due piattaforme italiane che si integrano in questo modo veramente bello e comodo anche da utilizzare come metodo di deposito ultima cosa su young platform già che ne parliamo ho scoperto guardando quest'ultima notizia che oggi quindi avete tempo ancora per poco purtroppo in occasione del black friday fino alle 11 e 59 quindi alla scadenza proprio della giornata non ci sono le fee sulla piattaforma young platform standard attenzione non la pro e quindi niente se volevate fare qualche acquisto lo si può assolutamente fare e ecco a tal proposito vi ricordo e vi lascio anche il link in descrizione se lo utilizzate avrete il welcome bonus di aspettate che me lo sono scritto welcome bonus di 10 euro se depositate almeno 50 e poi invitando un massimo di tre amici che anche loro devono depositare questa somma avrete un bonus di 5 euro per ognuno di loro e quindi ve la lascio lì trovate tutto in descrizione procediamo adesso ritornando al mondo defi quindi notizie sulla defi partiamo da quelle brutte dai poi lasciamo quelle belle per ultime snow dog rug pull che dire la la scammata ci voleva se no non ci svegliavamo contenti e cos'è successo beh sono questi fork dei fork dei fork dei fork dei fork di olympus dao e di wonderland che sono le due un pelino più come dire ormai radicate quelle un po più affermate con persone dietro stimabili saltano fuori fork di ogni tipo con gli apy su tre righe con 52 zeri e poi rug pull no ragazzi non ci si può stupire di ciò ok considerate che quando ho fatto anche il post morte mi hanno cercato di dire no ma volevamo far così bot mica bot rug pull clamoroso ok quindi attenzione perché se già come ricordate dai video in cui ne abbiamo parlato wonderland e olympus dao fanno parte del gambling per me wonderland è gambling l'allocazione è gambling i fork dei fork dei fork dei fork sono gambling elevato all'ennesima potenza quindi mi raccomando massima cautela massima attenzione personalmente non li userei neanche se proprio sia gambler nel cuore almeno cipino non fate follie di metterci un capitale che per voi è importante cioè devono essere soldi pensati come buttati quelli ok quella è l'idea alla base del gambling altrimenti c'è qualcosa che non va in partenza e poi si finisce così io mi immagino che adesso c'è ne è nata un anche su chronos ce ne sono ovunque di queste di questi fork perché è il trend del momento ricordate nel 2020 era il 2020 sì la defi summer quando era esplosa la defi e c'erano pizza hot dog una roba l'altra e poi hanno scammato tutte quasi tutte e la stessa cosa adesso accadrà con queste reserve currencies che sono un po il trend del momento fate molta attenzione perché soprattutto immaginandoci uno scenario di possibile bear market in un bear market non ne vedo una sopravvissuta di questi fork ok quindi ci si può fidare di wonderland perché c'è dietro daniele lo si segue si conosce si ci si può fidare di olympus dow perché sta facendo le cose seriamente anche lì c'è un rischio intrinseco folle altissimo però almeno non ci sono dietro scammer invece in questi fork for for ci sono dietro scammer molto spesso quindi massima attenzione ok mi raccomando poi procediamo mi sono dimenticato di disattivare le notifiche rimedio subito procediamo invece parlando di un metodo di rendita sulla defi sull'euro ok che ve l'ho condiviso qualche giorno fa è già diminuito l'apy classica situazione da defi dal momento in cui ne parli al giorno dopo si sega già l'apy sto parlando di yearn che ha cambiato grafica non so se avete notato wow e in particolare il si appoggia al pool di curve aspettate che facciamo tutto il giro così si capisce meglio si appoggia al pool di curve su ib eur che contiene ib eur e s eur se non ricordo male quello di synthetics e lo cerco aspettate cerchiamo eur qua sopra dove sei eccolo no euro dollaro dov'è eccolo qua ib eur e seur ok che cosa sono allora s eur e l'euro di synthetics quindi se conoscete synthetics piattaforma di sintetici sovracollateralizzati mille volte quello lì c'è anche l'euro ib eur invece deriva dalla piattaforma che si chiama fixed forex che è una piattaforma abbastanza nuova aspettate che magari l'andiamo a vedere pure quindi rischi da considerare cioè ci sono dei rischi tuttavia c'è già molta liquidità è una delle piattaforme di andre crony e mi pare che ci sia dietro lui e come funziona è una sorta di maker dao quindi permette di mintare delle stable coin o meglio degli asset vari tra cui queste iron bank currencies che sono sovracollateralizzate anche in questo caso quindi si deposita del collaterale e si va a mintare questi iron bank euro non è necessario per partecipare al pool di curve avere gli iron bank euro si può avere anche gli s euro quindi quelli da synthetics che a loro volta li si può scambiare qua su curve con altre cose quindi abbasta con eurt anche abbastanza semplice arrivarci detto questo il procedimento è su ethereum quindi gas fi molto alte il procedimento è pool di curve dando liquidità in ib eur o seur ottengo il token lp e il token lp lo vado a piazzare su yearn ok tac una volta fatto questo lui mi auto compounda fa tutti i suoi giri e ipy 46 per cento è volatile le ipy qualche giorno fa era del 60 però tendenzialmente è sopra è abbastanza sopra il 30 quindi non è male considerando che abbiamo i rischi di curve i rischi di yearn i rischi di fix forex soprattutto che è quella piattaforma un attimino più esotica però ripeto la massa liquida abbastanza alta quindi non sono rischi folli ma comunque ci sono dei rischi da considerare assolutamente e poi ci sono i costi delle gas fi ultimissime cose fix forex lo chiudo platypus penso si pronunci così non ne ho idea non so cosa significhi questa parola ma su avalanche abbastanza in hype ho visto e sarà un protocollo di stable swap quindi simile a curve il senso è quello cioè ci sono stable coin pool di stable coin e si può svuopare da una all'altra senza slippage con poco slippage tendente al nullo e la novità è che non fa più i pool come fa curve cioè su curve diamo liquidità in usdt usdc dai e poi c'è sto mega pool e si scambia l'una con l'altra classico dex no qua invece ci sono i cosiddetti single sided lp liquidity pools come funziona funziona che se io voglio dare liquidità in usdt io do liquidità in usdt e non è che vado a mettere liquidità in un pool e sono esposto in realtà un pool di stable sono esposto sempre solo in usdt questo teoricamente dovrebbe stando a quello che dicono loro poi magari mi leggerò meglio anche la documentazione tecnica ma avevo dato una panoramica e sembra ben fatto in effetti e poi ho visto che anche il team di avalanche lo appoggia abbastanza e insomma dovrebbe massimizzare l'efficienza del capitale così facendo e anche ridurre appunto lo slippage inizialmente ci sarà un lancio della versione alfa quindi rischi alti di nuovo vi ricordo il 29 novembre prossimo tra tre giorni lunedì quindi e per l'alpha ci sarà un hard cap dei depositi a due milioni e mezzo per ogni pool di stable per un totale di 10 milioni probabilmente ci sarà un liquidity mining non lo so io di sicuro vi terrò aggiornati su questo progetto perché mi sembra interessante e me lo sono salvato tra le cose da guardare ultimissima cosa mondo defy sempre guardando avanti io vi ho parlato di mind layer a volte ok su telegram soprattutto si tratta di una side chain di bitcoin per andare ad abilitare certe funzioni interessanti come la creazione dei token transazioni tra token appunto su mind layer pagabili nel token stesso quindi neanche da dover utilizzare come quando sposti un erc 20 che devi utilizzare ether e si può andare a creare delle piccole applicazioni defy per l'appunto su bitcoin è una side chain che condivide la sicurezza di bitcoin e quella è la cosa molto valida che la rende valida vi avevo promesso che rompevo le scatole al team finché non mi rispondevano e mi hanno finalmente risposto mi hanno detto che adesso hanno lanciato la testnet recentemente erano straimpegnati puntano a lanciare la mainnet all'inizio dell'anno prossimo mi hanno detto e comunque sono disposti a fare una chiacchierata quindi quasi quasi ve li do in pasto in live così gli possiamo fare mille mila domande perché anch'io ho una pagina di domande mi sono segnato da fargli quindi sarà molto interessante perché un paio di loro alcuni di loro sono italiani tra cui un uno degli sviluppatori che tra l'altro arriva da bitfinex insomma non è proprio l'ultimo arrivato e lo sono riuscito a catturarlo quindi state sul pezzo perché forse se riesco già la prossima settimana se no alla peggio quella dopo però ci facciamo una bella chiacchierata nel frattempo vi ricordo che ancora attivo le airdrop di questi token iniziale chiaramente non sono disponibili subito perché la mainnet sarà l'anno l'anno seguente però è una possibilità per accumulare qualche token senza spesa perché di fatto è un airdrop dovete andare adesso vi lascerò poi il link di nuovo in descrizione è launch.maintlayer.org ve l'avevo scritto anche su telegram c'è da fare alcuni compiti abbastanza semplici c'è anche il referral e ovviamente vi scillo il mio neanche da dire con cui potete avere 10 token in più vi mi raccomando che questi token stanno andando a ruba e c'è un hard cap a quelli distribuibili in airdrop quindi il primo che arriva meglio alloggia se siete di super fretta trovate già sul mio canale telegram tutto ciò di cui avete bisogno altrimenti aspettate che ve lo condivido qua perché ce lo dovrei avere eccolo salvato ve lo condivido qua su twitch così si può tac scilla scilla eccoci qua il mio referral non so se ce l'ho portata di mano mannaggia son pessimo eh non mi riconosco più eccolo l'ho trovato tac trovato questo è il mio referral ragazzi purtroppo non cioè non c'è il link e glielo ho detto glielo ho detto ma scusato un referral link da cristiani noi hanno detto e guarda ci siamo concentrati su altro e il referral link non l'abbiamo ancora sviluppato ve lo concedo ve lo concedo bisogna fare copy and call di quella stringa lì all'interno del campo referral per avere 10 token in più ve l'ho detto sta andando a ruba c'è molto hype hanno fatto una seed sale su lounge pool su quel lounge pool xyz e è stata la più oversubscribed della storia quindi c'è veramente un sacco di hype io li sto seguendo con un sacco di interesse perché il tema della defy su bitcoin è un tema che secondo me potrebbe veramente far parlare tanto adesso ho parlato troppo io invece quindi passo la parola a voi smettila di scilla il mio creazione non riesco a non scillare cioè se non scillo io muoio non ce la faccio è troppo è più forte di me e mi bevo un po di acqua ghiacciata oggi doppia acqua ghiacciata anche se non serve perché siamo tutto forche bullish però fa niente sul lungo termine io sono sempre bullish allora come va il farming su mayar l'ipy nella pool è sceso al 740 per cento e guardi in realtà aspetta che forse ottenuto perché volevo fare un esperimento tac con quel capitale iniziale che ci avevo messo aspettate devo ricollegare il wallet vediamo se ho ancora portata di mano il keystore file dovrebbe essere qua bene ok vediamo è dampato max che era una cosa abbastanza prevedibile ragazzi l'avevamo detto è l'avevamo detto subito che è un token che doveva dampare allora abbiamo in staking erano 20 dollari col dump sono diventati 15 abbiamo guadagnato un 1 e 35 dollari di max quindi cos'è circa un 10 per cento in pochi giorni l'ipyare sempre alto è però chiaramente ragazzi considerate che il max non è fatto per tenere alto il prezzo considerate che uno abbiamo degli ipr altissimi e questo già in onda di offerta due ci sono tutti gli airdrop da sbloccare e poi considerate anche che gli ipr caleranno con le settimane non so se avete visto la come si chiama la tabella di emissione no ve l'avevo detto anche nel video che di settimana in settimana va diminuendo anche perché tenere un ipr del genere a lungo termine vuol proprio dire voler far andare il token a zero cioè fai offerta folle quindi non conviene assolutamente e quindi quello un po il problema no che il prezzo una volta che ci sarà il rilascio degli airdrop il l'ipr diminuisce quindi cosa succede la gente toglie liquidità dal pool e il pool è eagold max quindi togliere liquidità dal pool vuol dire che poi uno dump a max per eagold per portar via la liquidità quindi il prezzo è veramente una spada di damocle sopra la testa massima attenzione anche a queste cose ne abbiamo parlato bene però dunque 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 sai dirmi qualcosa su sis coin no non conosco non conosco proprio non riesco a fare harvest si blocca sulla firma prova è se hai problemi con le transazioni prova a disabilitare gli adblocker e brave shield se utilizzi brave perché a volte fa un po di capricci con i web wallet c'è stato il primo launchpad su eagold si ho visto ho visto ho visto i launchpad ecco sono un motivo che potrebbe andare a dare dov'è launchpad niente ce l'avevo ve lo vado a riprendere errond.com e i launchpad potrebbero andare a crescere la domanda per eagold perché di fatto si partecipa con quelli no bisogna andarli a detenere non hanno molto a che vedere con max perché il launchpad richiede la detenzione di eagold stesso ok quindi interessante e bullish per eagold però non per altro vedete c'è il in base dove era qua secondo me in base al numero di eagold che si detiene si ha diritto a una monta un come dire un'allocazione massima e da lì poi dipende quello che si può andare a richiedere in termini di ticket eagold però non max max insomma secondo me potrebbe essere interessante però dopo questo svuotamento iniziale dopo questa ondata di unlock degli airdrop eccetera eccetera provi a tradare un top delle lens di sandbox o detieni anche in bear market ragazzi io le lens di sandbox non le vendo neanche se vengono a puntarmi una pistola alla tempia non le vendo non si toccano proprio zero luca tu cosa ne pensi di cardano sta scendendo di valore ma molti dicono che esploderà a fine anno vabbè così allora io su cardano mi sono sempre espresso in maniera abbastanza chiara e decisa io lo reputo sopravvalutato non c'è niente su cardano io sono sicuro che prima o poi delibereranno tutto ma adesso non c'è niente ed è in top 10 come lo si spiega io non lo so davvero quindi per me è no cardano mi dispiace c'è un fantastico codice per prime x e vabbè così è proprio li dobbiamo droppare così no gli ultimi ce li teniamo per la prossima settimana poi ma il black friday di legger ragazzi il black friday di legger anch'io me lo so ho detto ma che succede hanno finito i legger non lo so non so se vogliono fare il cyber monday o se lo posti non lo so non capisco il quale motivo non sia ancora arrivata la mail io mi ricordavo che c'erano tra o quattro giorni però ragazzi io giuro che vi avviso è nel momento in cui parte io vi avviso sapete che le promo del black friday ve le condivido tutte infatti vi ho condiviso trading view che è il prezzo più basso dell'anno quello del break friday poi c'era beats gap anche lui in sconto poi non ve l'ho detto non vi ho detto black friday più importante ragazzi c'è follia pura sulle nostre formazioni one to one di altissimo livello vi ricordo perché sono formazioni dedicate a chi vuole andare oltre quindi non solo le basi cioè non ha senso chiedercele per le basi ha senso per valutare certi rischi di alcune piattaforme defi per impostare strategie di costruzione portafoglio non consigli finanziari ovviamente quindi non chiedeteci cosa devo comprare quanto devo comprare quello no assolutamente no e però si può andare a studiare insieme delle strategie quindi rendervi autonomi poi nel fare lo step successivo quello è l'obiettivo se uno se a uno non basta tutto il materiale gratuito che abbiamo a disposizione c'è questa possibilità di approfondimento col mitico black friday abbiamo abbiamo fatto anche le grafiche adesso siamo diventati seri guardate che figata abbiamo sconto del 20 per cento sui pacchetti quindi su tutti i bundle da più ore che già sono scontate di loro e su un'ora di formazione lo stesso di solito non è scontata la scontia scontiamo tutto del 20 per cento e in più chi fa cinque ore o più a un'ora in regalo quindi boom così e dura fino a domenica quindi non c'è il cyber monday ma c'è la cyber sunday per noi finiamo domenica facciamo il weekend e via se ci se siete interessati vi lascio su qui su twitch a destra scorre ogni tanto la scillata c'è la mail support chiocciola decrypto gateway punto it che è la nostra assistenza clienti che vi risponderà a tutte le domande ed eventualmente vi farà preventivi si insomma parlate con loro che sono fantastici e basta tutto lì e ve la lascio anche in descrizione nel tubo sul tubo più tardi e basta spero vi piacciono le nuove grafiche tal proposito il nostro team sta crescendo e ragazzi è una figata perché siamo partiti da poco che eravamo veramente in due tre adesso siamo in otto in decrypto gateway siamo in otto sono gasato in una maniera folle e stanno arrivando cose che vi piaceranno vedrete vedrete tutte gratuite stavolta e le formazioni permettete ce le sono l'unico servizio a pagamento come premium plus insomma che abbiamo proposto basta scillarmi torno da voi è turno vostro vediamo vediamo ho flippato clamorosamente il launch pad di pt by bit è bomba anche lì a 10 per ha fatto io ormai cerco di partecipare in tutti quei launch pad lì cioè sono una dannatissima manna tra l'altro ne fanno uno dietro l'altro incredibile adesso c'è già il nuovo hanno già annunciato il nuovo quelli di by bit e si chiama aspettate che ve lo vado a tirar fuori si chiama si chiama si chiama simbiosis eccolo qua che è una piattaforma defy mi pare liquidità cross chain una cosa del genere e anche qui insomma come al solito con i bit bisogna detenere i bit è quello è quindi è un po diventata la la coin di by bit tra l'altro non so se avete notato ma tutti qua tutte queste coin dei launch pad poi vengono listate contemporaneamente al giorno 1 su by bit e su ft x pam pam così proprio fantastico ebbene torniamo da noi mentre qua tutto continua sempre di più mamma mia dunque dove siamo dove siamo alle ultime cosa ne pensi dei dual investment su binance non mi piacciono sai perché sono svantaggiosi nel più delle volte cioè sia che il prezzo salga o che scenda più di un top cioè è una è come operare in opzioni per capirci ma con dalla parte diciamo di chi è in svantaggio è sempre in vantaggio il banco in questo caso io personalmente non non le deterrei non non le utilizzerei conosci la piattaforma auto shark su bsc si aveva mica subito un danno un exploit o qualcosa del genere ma spell e spell ragazzi non benissimo è spell purtroppo non benissimo nonostante la insomma abracadabra continui a crescere però ragazzi spell il grafico è sembra un albero di natale buon natale ragazzi guardate mettiamo le palline qua un acqua un acqua tac buon natale mettiamo la stellina sopra eccolo l'albero di natale di spell questo è un nuovo pattern e passerà sicuramente alla storia questa tra le mie mille cazzate che sparo però no scherzi a parte non benissimo ma è la classica prova che abracadabra un progetto pazzesco sta generando utile però il token era molto esteso sovrapprezzato se voi andate a vedere la storia prima del listing su ftx ha fatto tipo così c'era veramente esponenzia fatto 100 per in poche settimane e quindi come al solito bisogna separare la fomo dal valore quando c'è troppa fomo tendenzialmente non è mai bene andare ad aprire troppe posizioni ciao palline di natale e quindi massima massima attenzione anche su questo è mi raccomando perché la fomo fa brutti scherzi poi secondo te ha senso con 14 luna sbattersi tra defy o staking ma 14 luna puoi metterli in staking nel dubbio che male male non è male non è qui crypto gateway meme gode sì io lo aspetto è guai a te se non fai almeno un contenuto e se i cross staked per la carta visa raggiungono il controvalore per l'upgrade cosa succede? come prendo la carta di fascia superiore e guarda dovresti devono essere scaduti sei mesi se no non puoi se sono scaduti puoi fare land stake e rifare stake per la fascia superiore però se non sono caduti sei mesi no allora aspettate che qua ho letto una domanda diversa dal solito volevo farti una domanda ho depositato i miei msol su solend e non ho ben capito quali sono i rischi di borroare magari magari altri msol stessi dunque ma perché innanzitutto mi viene da chiedermi? cioè vuoi andare in leva su sol in sostanza? cioè se tu vai a depositare a collaterale degli msol tu quegli msol li li detieni comunque ok? poi cosa puoi fare? borroare altri msol non ha senso perché no non vai in leva in realtà se tu andassi a borroare stable e compri msol con quelle stable hai un debito stabile e hai un collaterale in msol e con quelle stable hai comprato altri msol quindi sei in leva ma se tu hai un credito in msol e un debito in msol tu di fatto fai prima detenere gli msol ok? non cambia nulla quindi non vedo il senso ecco è tutto lì il discorso il rischio è il rischio intrinseco della piattaforma stessa quindi hack bug exploit cose simili liquidity crunch quindi se non c'è più liquidità sulla piattaforma sono i classici rischi delle piattaforme di landing non serve aspettare sei mesi basta entrare nella schermata di croi trovi il tasto upgrade davvero? non la sapevo sta cosa qualcun altro me la conferma? se qualcun altro me la conferma? l'upgrade della carta si può fare in qualsiasi momento non lo sapevo giuro grazie mille per la per la condivisione molto molto interessante bene sappi quindi che puoi fare upgrade esattamente dove vai per ordinare la carta se mi sembra di aver capito sì sì l'ho già upgradata e in tanti mi sa che l'hanno upgradata allora molto bene molto bene mi fa piacere sta cosa non lo sapevo devo andare a vedere se anch'io posso upparla probabilmente sì figo figo ma poi per spedirla paghi 50 euro o sbaglio se vuoi la spedizione della nuova carta confermatemi sì ok si paga 50 euro ok 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 top grafico di ADA e ti resetti 180 giorni esatto esatto grafico di ADA andiamolo a vedere ADA BTC ADA BTC oggi vabbè ha scavato credo il sottosuolo ormai fin troppo quindi è molto brutto come grafico oggi ha trovato un attimino di sollievo mentre tutto dampa non so è strano questo grafico ma questo era il suo ultimo supporto l'ha perso è brutto è come grafico perché ha fatto guardate aveva una struttura bella high low higher high higher low higher high poi pam 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 e subito un lower low così senza neanche un rimbalzo in mezzo cioè veramente l'offerta è potente l'offerta è potente e di sicuro non è non c'è nessun setup long qua in questo come dire in questo panorama non vedo nulla per cui aprire un long cardano sta un po' schericando è stata guidata da hype fino al 12 di settembre scommetto no un po' prima e poi gravità forza di gravità allora finiti eccoci allora atom come la vedi ne abbiamo parlato prima ne abbiamo parlato prima di atom quindi ti devi ti devi sparare la differita amico mio hai visto il calcolato calcolatore su wonderland se metti costo futuro di time a 10 dollari avresti comunque un 10 e ragazzi lo so lo so il il concetto su cui si basano quelle risorse currency lì dovrebbe essere proprio di lungo termine cioè non è fatta per arricchirti in poco tempo anche se un effetto collaterale a volte lo è ma è fatta per avere cioè è ovvio che time damperà parliamoci chiaro è una coin è un token che deve dampare non può continuare a salire con una selling pressure che si sta accumulando così forte cioè un apy del genere pagato in time vuol dire che il numero di time detenuti dai vari utilizzatori della piattaforma sta crescendo in continuazione e quindi c'è lì anche lì una selling pressure pronta a essere scatenata e pensate che nessuno la scatenerà è bello ok dire 3 3 stake stake così però prima o poi la gente vuole fare take profit quindi time damperà il fatto è che anche se damperà dipende quanto chiaramente se dampa del 100% non ci sono santi ma anche se damperà con l'apy che paga teoricamente dovrebbe un attimino essere profittevole soprattutto per chi arriva prima e l'obiettivo poi è stabilizzarsi perché è una vuole vuole diventare appunto una research currency quindi per definizione deve tendere ad essere stabile quello è un po il discorso quando porterà in live alessandro di crypto ita molto presto perché lui è il numero uno per me è veramente un grande l'ho conosciuto di persona e ci siamo trovati da dio su tutto quindi lo porterò molto presto cosa ne pensi di one mi piace l'ecosistema harmony in generale ho spippettato con the five kingdoms molto divertente e no al di là di tutto è valido valido assolutamente valido harmony però anche adesso c'è il black friday nano s su amazon ma su amazon io lo voglio comprare sul sito della ledger voglio il codice sconto ledger così ve lo scillo ragazzi non compratelo su amazon che non vi posso oscillare il referral per piacere fatti bravi cos'è che stavano dicendo che harmony è un attimino esteso dov'è eccolo è quello il problema anche se oggi ha retto benone guardate che roba il supporto qua tac ha quasi assorbito la caduta è una di quelle che ha retto meglio un'altra è luna luna ragazzi è un cavallo da corsa spettacolare sta lateralizzando e quindi non non corriamo troppo però non so se avete visto guardate gli ultimi burn di luna così roba da poco supply history gli ultimi burn di luna sono stati da dove sono eccoli qua meno un milione meno un milione e mezzo meno 200k bam 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 poi vabbè qua c'erano i burn del community pool ma cioè pazzesco luna io non smetterò mai di dire quanto sul lungo termine sono bullish su luna e sull'ecosistema terra la smetto sennò divento noioso c'è il rischio che diventi noioso molto noioso e poi poi conosci mars ecosystem no me l'avevate già scillato ma non l'ho approfondito il discorso su time vale anche per si di nexus protocol allora si di nexus protocol in realtà è un pelo diverso perché è vero che vuole fare anche lui un meccanismo simile però c'è anche altro ecco adesso è dampato parecchio perché comunque c'era il solito discorso di APY alti cioè c'erano degli APR molto molto alti pagati in psi quindi deve fare un po' di price discovery all'inizio ci vuole un po' di price discovery mentre poi per chi vuole starsene tranquillo ci sono i soliti vault che si appoggiano ad anchor che vanno sempre alla grande ma a questo punto lo staking di luna conviene secondo me a questi vault cioè rende di più di fatto quindi io sono più adesso per lo staking che per questi vault per pumpare un attimino l'APY di questi vault si può poi utilizzare nluna però poi bisogna detenere anche psi molta attenzione per andare a farmare esattamente su questi pool che hanno APR alto quindi forse per farlo conviene un attimino aspettare la price discovery di psi che arrivi a un punto quanto meno di stabilità perché adesso in downtrend abbastanza marcato era 0.3 neanche troppo tempo fa quindi bisogna bisogna fare attenzione ecco perché sì sembra tutto bello APR alti eccetera ma poi al 50% si è esposti a psi e se psi ti dumpa non è una cosa proprio molto bella quindi occhio poi qualcuno mi aveva chiesto rimanendo nel mondo luna terra e simili qualcuno mi aveva chiesto se con questi dump eccetera dovesse in sofferenza anchor protocol la mia risposta è no perché non gli interessa cioè sì magari c'è qualche posizione su luna che viene liquidata ma adesso con Nexus c'è anche la possibilità di collateralizzare senza il rischio liquidazione e quindi tendenzialmente no e poi come al solito io rimando sempre al grafico del questo qua di anchor mirror tracker che fa vedere la yield reserve che è comunque sempre crescente quindi finché cresce questo grafico non c'è neanche da preoccuparsi anche se decresce in realtà finché si parla di 70 milioni nella yield reserve direi che ce n'è da pagare poi 50 minuti siamo quasi in dirittura d'arrivo dunque 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 che ne pensi di block in previsione dei launch pad un'analisi di bit allora a proposito di bit aspetta andiamolo a vedere su by bit che forse è quello che ha più storico mi pare che nei prossimi giorni aspettate che vi condivido anche la notizia se la trovo me l'ero salvata nei miei appunti personali ve la trovo subito aspettate eccola se vi ricordate la vendita iniziale di bit era su sushi swap io avevo partecipato al tempo e c'era intanto apro qua spot B2SDT e c'era la possibilità di contribuire in ETH oppure in sushi e io avevo contribuito in ETH e in sostanza c'era un prezzo iniziale mi pare di 2 dollari se non ricordo male con un bonus vi ricordate che c'era le airdrop di token LP per chi contribuiva c'era il tipo il 40% in più eccetera vengono sbloccati dopo domani quindi potrebbe esserci un dump chi lo sa potrebbe essere un'occasione magari per accumularne qualcuno non lo so non lo so io farei attenzione a questa data però 28 novembre per bit perché potrebbe magari avere un flash dump quello che è perché poi di fatto adesso sta correggendo sta correggendo insieme un po' il mercato questo è in dollari quindi è un po' l'andamento che mima bitcoin però macroscopicamente non è male per ora è abbastanza bullish poi ripeto col discorso di c'è dentro la meda c'è entrato la meda in bitdao c'è Bybit che lo spinge un sacco cioè è una di quelle coin che la vedo un po' come come BNB CRO cioè non ancora a quel livello lì sinceramente perché insomma comparare qualcosa con crypto.com e Binance bisogna ancora un attimino aspettare FTT anche stessa cosa però potrebbe essere potrebbe andare in quella direzione lì visto che i launchpad hanno integrato Bit è finita su FTX insomma sembra che ci sia un po' di di spinta forte dietro quindi io la tengo sempre d'occhio non sono ancora esposto a parte quelle per partecipare ai launchpad il cippino che non lo considero ancora un investimento ma ma no allora Amazon Prime rinnovato contribuiamo alla causa tra l'altro hai visto che che cosa ho combinato oggi che ogni tanto arriva la scillata anche di quello o no e di sì se poi non arriva sono veramente il peggiore dei peggiori però avevo messo il il bot che autospam ogni tanto il link per per collegare il vostro account Twitch ad Amazon Prime così poi se vi abbonate al mio canale è gratuito per voi e una piccola donazione per me è il top il top allora su Bybit ho fatto il claim dei 5 dollari per aver seguito sui social ma non li vedo nel wallet sono dei coupon quelli lì sono dei trading bonus li dovresti vedere nel reward center mi pare dunque dunque non mi ricordo dov'è non mi ricordo dov'è ma mi pare che sia nel tuo profilo reward hub eccolo qua reward hub lo trovi lì lo trovi lì allora 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 no ho perso vi ho perso vi ho perso yes l'ho seguito poco fa il link per Prime bravi bravi ragazzi voglio vedere il boom di abbonati il boom di abbonati quanto bisogna avere su Bybit per partecipare al launchpad 50 bit è il minimo sindacale poi più se ne ha e più meglio meglio è lo so che non si dice mi fa paura solo nominarlo ma Ripple parecchio tempo fa fece uno snapshot rilascio di Flair oh mio dio oh mio dio no non ne so più niente non l'ho seguito Ripple non ne voglio sapere nulla live da un'ora e venti che cosa quella di oggi adesso adesso quanto siamo 50 minuti sono bravo sono stato bravo poi poi hai visto che ne pensi della collezione NFT Loaded Lions è stata creata da Crypto.com come collezione di lancio ragazzi io vi giuro sono ignorantissimo di NFT purtroppo è un mio grosso difetto e lo devo assolutamente devo assolutamente colmarlo mi dovete perdonare per il momento troppa DeFi devo studiarmi gli NFT prima noi siamo arrivati alle 18.30 dai voletemi voletemi bene voletemi bene lo stesso ci aggiorni su Arome Arome ha il mio cippino cippino in realtà in fase di accumulazione perché è un cippino tipo fatto a TWAP sicuramente sarà dampato oggi mi aspetto che come come inizio sarà sicuramente dampato ed è puro gambling lo sapete si è dampato ma neanche troppo puro gambling ragazzi questo è gambling elevato al quadrato perché è una piattaforma che deve ancora lanciare è su alla fine è su Moonbeam ciao Moonbeam buonanotte Moonriver ma avete confuso ieri mi sono confuso vi ho detto su Avalanche in realtà è su Moonriver e è un fork di nuovo di Olympus Dao e simili su appunto mondo Kusama Polkadot mi sembra carino con la gamification poi ho fatto un po' di analisi dietro e insomma è abbastanza stimato diciamo dalla community però ve la lascio lì rischi folli ha sempre disclaimer rischi folli gambling io ci ho messo il mio cippino che deriva da Wonderland quindi lasciamo pur stare non scaviamo troppo in profondità è gambling fa parte della fetta gambling l'ho specificato dal giorno 1 da T0 gambling 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 poi ci sta integrarlo lo sapete nel portafoglio il gambling ma con i dovuti crisi poi adesso andiamo a vedere i grafici però è il momento dei grafici allora torniamo sul nostro bitcoin in sofferenza andiamo a vedere qualche time frame un po' più ampio vabbè partiamo dal daily in verità il daily ci mostra una perdita del range l'abbiamo visto prima avevamo questa bella resistenza e sembrava che volessimo fare una W ma oggi ci ha detto no non la facciamo la W dampiamo ancora e infatti così fu nuovo lower low quindi non sembra uno sweep a meno che adesso non vada a galoppare fino a riassorbire fin qua che non sarebbe male il prossimo target è 52 53 mila questa zona di supporto questo è il prossimo target in supporto poi che cosa dobbiamo fare dobbiamo vedere che accade perché in base a dove adesso troviamo il low sul breve poi vediamo dove troveremo l'high se andiamo di nuovo a fare un lower high e poi andiamo di nuovo a scendere e siamo al punto di partenza si continua a ritracciare la variabile che mi dice se la situazione si fa bearish è la perdita il lower low sotto i 40 mila se perdiamo i 40 mila allora la situazione cambia perché anche questo trend macroscopico viene invalidato in maniera clamorosa viene già invalidato anche se scendiamo sotto ai 52 53 però se scendiamo sotto i 52 53 poi facciamo così facciamo comunque un higher low teniamo la struttura di certo più scendiamo e più è alta la probabilità di andare a fare poi al rimbalzo un lower high e quindi poi andiamo incontro a due possibilità di nuovo abbiamo la possibilità di andare a fare dopo un altro lower low quindi canale ribassista oppure andare a fare un higher low quindi lateralità ok questi sono un po' gli scenari ci stiamo proiettando troppo avanti per adesso conviene rimanere con i piedi per terra rimanere nel presente e osservare uno questa zona che è il primo supporto se tiene molto bene se lo perdiamo indebolimento ulteriore due il prossimo supporto è 48 mila e dintorni questa fascia ad alti volumi e stessi discorsi valgono se lo perdiamo indebolimento ulteriore c'è il rischio di andare a fare un equal low addirittura se lo perdiamo che non sarebbe il massimo della vita ok ci indebolirebbe molto la struttura cioè più troviamo il low verso l'alto e meglio è fondamentalmente questa non è la fase in cui cercare il long speculativo perché per dire voi qua c'è il supporto longo qui che rimbalza no attenzione c'è il rischio a farlo si può fare con stop loss sotto con rischio annesso ha senso come dicevo all'inizio provare volendo ad assorbire un tutto il movimento discendente costruendo una posizione long con invalidazione sotto i 40.000 questo è un po' più di ampio respiro più basata su una price action di medio termine ecco questo è il grafico settimanale che come vedete mostra il mangiarsi di questa zona di top abbiamo fatto un costrutino di top però lato ritracciamento vediamo anche il fibonaccio cosa ci dice non abbiamo nulla di eclatante siamo ancora al 50% quindi niente di folle ok rispetto all'ultima leg up attenzione se vogliamo vedere invece il ritracciamento rispetto a l'intero movimento dal bottom siamo al 38.2 pam chirurgico vediamo vediamo come ci comportiamo per adesso siamo ancora in zona safe però non c'è da preoccuparsi ma ripeto più perdiamo supporti e più la situazione inizia a gravare quindi occhi aperti il mio short di copertura è ancora aperto per chi se lo chiedesse non l'ho mai chiuso insomma prima di chiuderlo volevo vedere una certa carica e niente rimane lì speri anche porti bene faccia pampare sul mensile anche qua insomma abbiamo sì questo questo sweep che non è proprio il massimo della vita però non è bearish dai ammettetelo ammettetelo che non è ancora bearish ci sono un po' di segnali di top in giro numero di bananari esponenzialmente crescente bananari ovunque che passano dai blog in vacanza al parlare di cripto a me queste cose fanno chiudere la vena perché e sono top signal quelle lì top si ci vuole un bel bear market che ci eppuri da tutti questi bananari e poi potremo ritornare a crescere in maniera un pelino più sana chi lo sa chi lo sa andiamo a vedere il resto vi faccio vedere prima anche la total market cap eccola che invece vedete non è ancora non ha ancora perso ha perso il suo uptrend l'ultimo uptrend come trend line ma non ha ancora perso vedete i 2.4 trillions che sono il primo supporto quindi vediamo c'è ancora speranza potremmo lateralizzare un po' qui chi lo sa non sarebbe male come scenario perché potrebbe essere un'accumulazione nel caso qua è complice cro in buona parte perché abbiamo visto com'è andata andiamo a vedere ethereum adesso che comunque rimane rimane bullish ethereum io non lo so mi sembra mi sembra molto carico ethereum molto molto carico non so a voi come sembra ma a me sembra carico assai vediamo ethereum dollaro chiaramente ha dampato luna è in verde waves è in verde in quanti miscillate waves tra l'altro dovrei decidermi a darci un'occhiata comunque niente questa è un attimino la situazione attuale bnb bitcoin ah non male anche bnb eh ragazzi non male affatto non male affatto in questo bel range che se lo rompe non oso immaginare dove possa arrivare bnb mannaggia lui è sempre carico bnb sempre carico crow invece crow ha scaricato un po' non vorrei essere nei panni di chi l'ha comprato a 90 centesimi ma ve l'avevo detto stavolta io odio chi dice ve l'avevo detto ma io stavolta ve l'avevo detto di non comprare in iperestensione ci si fa un male cane un male cane poi quando ci sono degli scarichi così veloci le punte difficile è ritornare a fare nuovi massimi cioè di solito è un po' una miccia che poi scatena un ritracciamento più profondo bene amici miei questo è questo è quanto sono riuscito a mettere in loop ust su abracadabra mi sento come di aver vinto il super enalotto attento spero che non hai loopato troppo perché i rischi sono esponenziali esponenziali sei ancora dentro col tuo cipino su wonderland se 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 cipino su wonderland e il cipino originario è finito su a rom si salvi chi può mamma mia so già che andrà a finire in rag pull e finirà finirà malissimo però dai sono cipini lo spirito del cipino ci vuole lo spirito del cipino ci vuole per chi tiene ada cosa consigli ragazzi io non consiglio niente non vi consiglio niente perché deve partire da voi io non vi do consigli sul da farsi io vi posso dire cosa ne penso io e sono stato molto chiaro io la reputo sopravvalutata ma se voi detenete ada spero che abbiate una ragione per farlo quindi abbiate un vostro piano bisogna avere una strategia nei momenti come questi chi ha una strategia vince chi non ha una strategia si fa spazzare via mi raccomando amici di nuovo ho lupato fino al 66% oltre al rischio de peg smart contract non hai nient'altro rischio de peg che ti liquida e rischio smart contract sono quelli i rischi sono assolutamente quelli bene bene ragazzi il cipino quant'è uno 0, qualcosa per cento cioè una cosa veramente trascurabile bene amici perché atom è considerato una shitcoin no non l'ho mai detto non è una shit attenzione non è una shitcoin la reputo un po' inutile al momento purtroppo cioè io non la deterrei perché purtroppo non dà tutto sto valore ecco questo è il problema ma non è una shitcoin mai detto non mettetemi in bocca parole io sono bullish sul mondo cosmos e mi raccomando c'hai scillato gli addrop di Desmos a proposito sì ieri hanno hanno spiegato come si fa e ci sono stati un po' di situazioni imbarazzanti del tipo che all'inizio avevano proposto di il metodo prevedeva di mettere il seed in un loro wallet allora fermo restando che non sono scammer e l'hanno fatto in buona fede sicuramente non è la cosa migliore da fare quindi poi hanno subito fixato alcune cose e c'è la possibilità di riscattarlo tramite Kepler il wallet di Atom di Cosmos oppure anche in Ledger quindi vi consiglio di andare sul loro gruppo telegram ufficiale italiano tra l'altro e vi spiegano cioè c'è spiegato tutto in maniera abbastanza chiara quindi non c'è più bisogno di inserire il seed pratica che io vi sconsiglio sempre di fare a prescindere bene basta adesso me ne vado davvero un'ora e 05 se no dormiamo insieme stasera vi faccio un carissimo saluto vi auguro un buon weekend mi raccomando la promo Black Friday delle formazioni one to one se eravate indecisi è il momento di decidervi durano fino a domenica noi ci rivediamo lunedì sempre alle 18.30 sempre sul pezzo sempre in live buona serata e alla prossima grazie a tutti